Assegnata al Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia la medaglia d'oro della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella sala del Consiglio di Amministrazione della sede centrale della Cassa di Risparmio di Ravenna in Piazza Garibaldi. La Fondazione Cassa ha voluto così riconoscere con la medaglia d'oro i meriti sportivi e soprattutto il grande lavoro sui giovani svolto dal Circolo Cervese. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna segue in modo particolare lo sport, lo sport giovanile. Noi già in passato abbiamo premiato la Robur Volley, il basket Piero Manetti, la compagnia dell'albero per i settori del calcio, del rugby e del basket. Quest'anno come società eccellente del sport premiamo il Circolo Velico di Cervia con una medaglia d'oro. È un Circolo che segue molto i giovani, hanno tantissimi giovani e fanno un ottimo lavoro aperto a tutti. Il nostro contributo serve anche per facilitare le famiglie più bisognose. Cosa rappresenta per il Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia aver ricevuto questa medaglia d'oro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna? È un riconoscimento importante perché oggi sono qui io come Presidente del Circolo Nautico ma dietro a Stefano Valeri ci sono un gruppo di soci del Circolo Nautico veramente nutrito dai consiglieri ai componenti dello staff a tutti i nostri collaboratori dipendenti che lavorano con passione, con competenza per cui è un riconoscimento che è il frutto di un impegno che va avanti da tanti anni. Per cui io sono felice perché prima di me chi mi ha preceduto ha fatto quanto faccio io per l'impegno che ha profuso. Io continuo come tutti gli amici della Vela a dare il mio tempo libero, la mia passione per il nostro sport, per la nostra attività al Circolo Nautico di Cervia e quindi avere questo riconoscimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per noi è importante e ci rende orgogliosi. Tra le motivazioni appunto è stato evidenziato anche il vostro impegno nei confronti dei giovani, giovani che ottengono anche degli ottimi risultati. Sì, noi giovani sono al centro dell'attività degli amici della Vela perché abbiamo un'attività sportiva che nasce dall'avviamento dello sport. Oggi abbiamo una squadra di circa 20 ragazzi che sono a punta marina perché c'è una selezione per la partecipazione al campionato italiano che si terrà in settembre. Contemporaneamente ci sono oggi degli altri ragazzi che sono nella classe laser a regattare per il campionato europeo in Francia per cui è un circolo in nostro dove abbiamo vinto la Coppa del Presidente che è il massimo trofeo giovanile. La bellezza di tre volte, tre volte primi, una volta siamo arrivati secondi e abbiamo dei campioni italiani nella classe Optimist. Abbiamo vinto trofei all'estero, in Italia, cioè fuori dall'Italia, ovviamente in Slovenia, in Francia e in Austria. Quindi siamo veramente un circolo dove i giovani sono posti al centro e il futuro è il loro. Noi come adulti siamo per aiutarli, far sì che loro possano crescere con dei valori e col divertimento.